Niente accordo? Allora si sciopera per la seconda volta e sarà così dalle 17 di oggi e fino a fine turno, orario nel quale gli autisti di Verona non garantiranno il servizio. Da tempo infatti i sindacati e gli autisti lamentano stipendi troppo bassi e ritmi di lavoro estenuanti. A Verona si lavora infatti per una base media di 1.100 euro mensili, spiega Stefano Ferrari, segretario provinciale di Faiza Cisal. A questo si aggiungono circa 100 euro derivanti dalla vendita di biglietti durante il servizio e gli straordinari, che data la mancanza di personale arrivano anche a 50 ore mensili. Gli autisti quindi oggi scenderanno in Piazza Bra alle 17, questo per garantire anche quest'anno il responsabile servizio di trasporto ai giovani studenti, che questa mattina hanno cominciato l'anno scolastico. Ma la data annunciata vuole essere un chiaro monito ai vertici di ATV, al Comune e a Ferrovie Nord, maggiore azionista dell'azienda, per chiedere un aumento degli stipendi che al momento sono tra i più bassi in Italia. Abbiamo scritto a MT, al Comune di Verona, a Ferrovie Nord, Milano, che è quello che è la parte forte, perché nel CDA la fa da padrone, è quell'azienda che sta oggi bloccando assunzioni di meccanici, bloccando assunzioni negli autisti, per cercare di continuare a far più utile, far più margine e portarsi a casa il dividendo. Solo nell'ultimo anno sono 25 le persone che si sono licenziate a causa degli stipendi troppo bassi, spiega Ferrari. In azienda poi c'è carenza di personale e questo va a scapito della qualità del lavoro e quindi della sicurezza degli utenti. Il 30% del lavoro è già da oggi fatto in straordinario, quindi si appesantisce le condizioni di guida a danno a rischio della salute e anche della sicurezza. Ecco, i nostri autisti sono professionisti, quindi io mi sento di dire che chi viaggia, viaggia sicuro. Però a lungo andare, e specialmente oggi che mancano 50 autisti, la paura è che si logori il personale, la salute del personale.